Padre Marciante, 50 anni di sacerdozio, il festeggiamento da parte della Chiesa, dei fedeli, dei sacerdoti, quindi del clero di Sciacca. A proposito di clero, 50 anni fa, partendo dalla parte più alta, c'era padre Pisa a San Calogero, padre Santa Lucia al Giglio, e sia a San Calogero che al Giglio c'erano tanti frati, padre Lana a San Michele, poi i due Ciaccio a San Francesco di Paola e alla Marina, padre Sciacchitano al Carmine, padre Falanga alla Chiesa Madre, del quale lei era viceparroco. C'è un po' di nostalgia in questo momento? Certamente, 50 anni fa, quando nel mese di ottobre, sono stato montato viceparroco in questa Chiesa Madre, ho trovato una grande famiglia di confratelli, tra questi che tu hai nominato c'era anche Modigno di Mino, che era sempre alla Chiesa del San Francesco di Paola, con padre Sciaccio, e una grande famiglia di presbiteri, certamente era una comunità presbiterale molto unita, molto, diciamo, volenterosa, e tutta la città di Sciacca sentiva la ricchezza di questa presenza del presbitero. Oggi purtroppo la crisi vocazionale è determinante. Lei non avrebbe mai immaginato, a distanza di 50 anni, di trovarsi a doversi occupare di tre chiese? Assolutamente. 50 anni fa, quando ho iniziato il mio servizio in questa Chiesa Madre, con la Cipetta di Falanca, non avevo mai pensato che io, intanto, potesse essere successore della Cipetta di Falanca, e a Sciacca avere questo numero esiguo di presbiteri, come hai scennato tu, ogni chiesa c'era un sacerdote, la comunità religiosa, le torre, erano tanti frati, San Galoggio, il Ciglio, anche i padri Capuccini. Certamente, dal 1974, con l'ondata dei Capuccini, da parte mia, qui in Chiesa Madre, Doncino a Carmene, la chiesa di Sciacca era veramente una chiesa ricca di presbiteri, di sacerdoti, anche le comunità sentivano il vantaggio e la gioia di essere serviti da tanti bravi sacerdoti, perché io ho un grandissimo ricordo della Cipetta di Falanca, dei padri Pisa, padre Santa Lucia, tutti i confratelli, anche quelli più giovani. Però bisogna guardare al futuro sempre con speranza, lei ritiene che negli ultimi giorni ci sono state anche delle celebrazioni dedicate al seminario, ritiene che si stiano un po' creando le condizioni per avere un maggior numero di sacerdoti, anche nella chiesa agrigentina? Sì, io sono convinto che il buon pastore non si dimentica mai delle sue pecorelle, quindi la chiesa di oggi sta vivendo questo momento di crisi, ma la speranza che il seminario possa rifiorire certamente c'è, la speranza che i giovani di oggi, non parliamo male per piacere dei giovani di oggi, perché i giovani sono figli di questo tempo come eravamo a suo tempo noi, dopo il concilio anche i giovani di allora erano un pochettino ribelli, un pochettino in difficoltà, ma sono certo che il Signore continuerà a chiamare. Questa settimana, come tu hai accennato, l'abbiamo dedicata proprio alla preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. Tra l'altro ho dimenticato a dirti che anche le comunità religiose erano molto, diciamo, numerose nel 74, c'era le sorelle Giumare, il Boccono del Povero, Battia Grande, le sorelle del Sacro Cuore, anche le comunità religiose femminili erano numerosissime. Oggi purtroppo stiamo assistendo a questa povertà di vocazioni, ma siamo certi, io sono certo, che con la nostra preghiera, bussando al cuore di Gesù e al cuore della Madonna, ritorneranno a riferire le vocazioni sia al sacerdozio sia alla vita consagrata femminile.